Uno degli scrittori più in voga sul fronte thriller noir è un ortonese, Romano De Marco, che regala alla sua città un evento per conoscere più da vicino gli scrittori del thriller e del noir. Ma com'è nata l'idea di questo regalo alla tua città? Il regalo non è tanto mio quanto del sindaco Leo Castiglione e dell'assessore Cristiana Canosa che hanno perorato questa causa. Leo Castiglione l'anno scorso venne a una mia presentazione e mi disse guarda pazienta un anno e faremo una cosa insieme, ti proporò una cosa insieme. Devo dire che negli anni, ho esordito nel 2009 con Mondadori, di proposte e di richieste, ne ho avute tante, non si è mai purtroppo concretizzato nulla, questa volta sì. Quindi onore al sindaco e all'assessore Canosa. Io poi mi sono messo a disposizione con grande piacere e con grande orgoglio per poter fare qualcosa di bello per la mia città senza colori politici. Hai detto bene, è una manifestazione che si propone proprio di andare avanti, di crescere negli anni per attirare persone a Ortona. Abbiamo già quest'anno, siamo partiti con pochi mesi di anticipo, abbiamo già quest'anno una ventina di prenotazioni presso i nostri alberghi, persone che passeranno il weekend per incontrare gli autori ma conosceranno la nostra spiaggia, le bellezze della nostra città. Questo ci fa piacere. Negli anni vogliamo che l'appuntamento si rinnovi, cresca sempre di più per far crescere la città. C'è stata già un'anteprima, tra l'altro è stato presentato anche il tuo ultimo lavoro nero a Milano, ma ci sono appuntamenti totalmente gratuiti sui quali bisogna appuntarsi le date. Sarai tu il moderatore con? Sì, modererò io tutti gli incontri, la prima giornata con Pier Giorgio Pulixi e Antonio Manzini e per di più questo accadrà il venerdì 21. Oltre a Manzini ci sarà anche una grandissima sorpresa legata alla serie televisiva che però non svelo, sarà svelata a chi verrà a seguirci in piazza. Manzini, autore di Rocchio Schiavone. Esattamente, autore della serie di Rocchio Schiavone che ha un grande successo in tv con Giallini. Il secondo giorno avremo Paolo Roversi, Raul Montanari, uno scrittore di grande prestigio e di grande caratura letteraria e Dulcis in fondo Maurizio De Giovanni. Il terzo giorno, domenica 23, concluderemo con un workshop di scrittura gratuita con Mirko Zilai e con due autori premio Bancarella, Orgoglio Italiano nel mondo per il romanzo giallo storico, cioè Matteo Strucul e Marcello Simoni. Appuntamento dove? Appuntamento, piazza del teatro, angolo passeggiata orientale, quindi non ci si può sbagliare. Appuntamento dove? Appuntamento, piazza del teatro, angolo passeggiata orientale, quindi non ci si può sbagliare. Appuntamento, piazza del teatro, angolo passeggiata orientale, quindi non ci si può sbagliare.